Volevamo chiederti in primis come sono andati gli store, se sono andati bene, come è stato? Beh, fortunatamente sì, sia quelli del libro sia quelli del disco. E quelli del libro non me l'ha aspettato, perché essendo magari il primo non sai fare un bilancio, no? Essendo il primo libro sai più o meno come vanno i dischi, ma il libro non lo sai. Invece sono andati molto bene anche quelli e sono molto molto contento. Invece un tuo giudizio sul canale di Luca Ranzani? Io direi che è molto figo, è nuovo, quindi grande. Non che sia nuova la roba delle interviste, però comunque la roba di fare intervistare in giro, andare da ognuno di questi artisti, ci sta. Quindi continua così. Grazie, noi ti ringraziamo e alla prossima. Figao! La pubblica... La pubblica...